vamos primo round grazie per il follo ma è lei ma che è successo oggi sarve sarve comunque sapevo che mi stavi stalkerando da un pochino me ne era accorto grazie grazie mille lasciate stare che oggi non è una top live io vado con mezzi di fortuna a streammare vi dico soltanto questo però ci provo è io non de mordo ma ci provo come stare come state e grazie che è che è successo oggi ebbè si fa questo anche se trash all'universo a me non mi interessa si va avanti 500 bit e che cavolo e stoned ogni tanto ritorni pure tu che è successo oggi e che cavolo ciao billy e che è successo quanti followers manco manco quando fu bottato madonna madonna santa ma dicevo non si muove più e che no lo so che non siete bot ma l'ultima volta che ho ricevuto così tanti followers e perché mi botarono per dire vai e se vince siamo nel podio siamo nel podio siamo nel podio siamo nel podio si l'avevo messo l'alert di due anni fa la scritta di due anni fa non so se sei live anche tu in questo istante comunque buon percorso anche a te buona 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 vita anche a te che ti devo dire grazie per tutti i followers grazie mille purtroppo sono anche lì sapevo questa cosa perché diciamo mi era apparso in home su twitch quindi sapevo e certo la ringrazio la ringrazio volentieri la ringrazio anzi più che ringraziarla faccio un'altra cosa ecco qua così la riconoscerò quando verrà sempre in chat il vip se la merita e beh il vip va dato alla gente anche importante qua su questa piattaforma cosa almeno non mi confondo tra i 3000 account che esistono ah no ma come ma come quando va dato il giusto merito io il merito lo do a chi veramente è che finiamo oggi con questi alert a quale alert siamo arrivati aspetta quanti alert mancano ne mancano un bel po' di alert quindi devo sentire ancora eh vabbè mille euro non c'ho manco i soldi per respirare a momenti ti ho detto io che vado con mezzi di fortuna a streamare addirittura quello potrei anche fare tanto non ci vuole niente un tasto devo premere grazie grazie per tutti i followers grazie ecco chi poteva essere ma chi poteva essere con questo sound alert il bonstoned oddio sono circondato che è il bello che io riesco a giocare riesco a parlare con voi in chat se vuoi fare il mod però mi devi dare la fiducia non faccio mod gente a caso ci ho provato ed è finita male ebbè ma sonnet lo conosco cioè ci becchiamo spesso in altre chat ci becchiamo spesso quindi lo so lo so perfettamente ma come è uscito sto alert ma che è successo calma 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 potrei anche regalargli la sub ma sarebbe come posso dire lei che è nel mondo di twitch sa perfettamente come funziona ecco sarebbe un po' sia a vantaggio che a svantaggio allo stesso tempo io io potrei anche farlo guarda non ci perdo nulla tanto sei una sub ho regalato una volta sbagliai pure a regalar una sub quindi spesi il doppio dei soldi ah OF OF appena stacco la live volentieri faccio clic con un tasto non ci vuole niente cioè io ho fatto non ho fatto un cavolo in questo round abbiamo pure vinto il round veramente io posso rimanere qua fermo tanto la mia squadra va da solo e fallo allora ne siamo sicuri che ci tiene perché io potrei anche farlo senza pensarci due volte però sai come non voglio sprecare anche se quello poi sì mi state mettendo un po' a disagio dov'era questo dov'era mo mi ti spiega dov'era oh se veramente lo vuole che mi contattasse poi non vi pensate che top contenuti o è tutto casereccio alla joker possiamo possiamo dire è tutto casereccio maledì non ti far ammazzare mi raccomando ma no ma porca miseria ma porca miseria oggi si è ribaltata la situazione è iniziata con una live morta e si è ribaltata la situazione sta cosa mi rende più che felice e vedrai che ti dice che lo vuole ok potrei anche farlo questa questa prova ma come abbiamo perso il round ma che sfiga ma adesso adesso devo farlo non posso farlo in un secondo momento ah giusto per il content ma come è giusto per il content quanto siete birichini oh io voglio sapere perché si ammassano due tre mi sparano è una miseria metti di giocare sto gioco posso anche farlo appena finisce il round voglio dirlo giusto per la casa ma perché ma perché sai come non è una cosa da semplice ecco da chiedere te lo posso te lo posso giurare non è una cosa semplice da chiedere un conto se la persona stessa me lo chiede ok ci sta me l'ha chiesto ma un conto se vado a dire io cioè non so se ci siamo capiti io non lo so se l'ha detto in live poi se hai delle prove volentieri ah vabbè qua quasi vince allora come facciamo a sapere se è real la situazione come ci va a sapere no 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 ok fammi finire un secondo un secondo vado instant vado instant ma devo mettere anche la reaction a schermo devo mettere anche la finestra a schermo o posso anche se facciamo se facciamo incidente muore solo il conducente ma prima volevo capire una roba volevo capire prima ma l'alert quello quello come si chiama dov'è chi è partito io ho sentito che è partito un stranissima avevo sentito prima che mi era partito nelle cuffie la musica quella del balletto di di come si chiama vabbè scopriremo scoprirò scoprirò rivedendo il vod cosa cavolo è successo ma non è che facciamo un inception aspetta vado prima a controllare per conto mio poi poi vediamo se non è una presa per il culo sì ma poi che cavolo devo chiedere cioè ma tu mi stai cogliendo la sprovvista mi stai cogliendo adesso voglio voglio capire un po' la situazione cioè che devo chiedergli vuoi la mia sub gratuita di OF ma tu ti immagino che vado da una ragazza e faccio babbo babbo eh sì la sub la sub fatemi capire la sub è lì è quella sub non la sub qui su twitch fatemi capire che mi sto rincoglionendo giustamente oddio mi state mandando proprio in tilt il cervello non vi siete messi d'accordo no che faccio una figura di merda faccio faccio una figura di merda avete preso la persona più coraggiosa del mondo avete preso la persona più coraggiosa del mondo potrei anche chiedere ma mi sento un po' disagio ecco a dire la verità questi chi vai a fare il uomo io lo farei guarda io lo farei aspetta faccio prima aspetta allora prima di chiudere un attimo prendo delle robe qua così chiudo definitivamente e non è la stessa cosa F rispetto a Holyfans non è la stessa cosa cosa cambia che una la versione la versione diciamo non scritta esplicita del nome del sito è una versione esplicita cosa cambia ma cambia un cazzo cioè o F Holyfans è la stessa cosa a casa mia è così non so se ne ha capito tutt'altro ah ok 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 è meno sporco ok oddio mi state mettendo a disagio oddio mi state mettendo a disagio rega non potete capire non potete capire come sto a disagio allora io sono metto anche a schermo volete anche a schermo la la sua live non lo so o volete soltanto l'audio oddio 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 che figura di merda sto facendo che figura di merda che figura di merda oddio sta parte sta parte di live è content è content allo stato puro andiamo andiamo prendo la fiducia allora un attimo che metto la fonte do cacchio e cattura schermo facciamo con cattura schermo chissene ok attiviamo l'audio ok vado va bene oggi sta incazzato nero ok raga fra 5 minuti iniziamo un'altra ruota dagli stessi pupazzi che ho regalato alla mia ex mi ha fatto ria tristire no non era mia intenzione e per chi sta a Roma dove vai ci possiamo beccare a Perugia oppure Perugia o su Perugia o su però a parte scherzi dai ma che figura di merda mi state facendo fare in caso vi fate un po' di strada ma che figura di merda vi state facendo fare chiamate scrivetemi che ci organizziamo facciamo un pranzetto un aperitivo un pomeriggio insieme facciamo qualcosa mi hanno detto che ti interessa l'abbonamento gratis al mio f a a a a a maledetti questi sono della mia chat dai 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 ragazzi io sto parlando di membri della mia community eh cioè nel senso se dovessi fare un raduno con chi non conosco minimamente è strana come cosa un incontro cioè non mi sentirei manco a mio agio andate a fare in culo andate a fare in culo avete fatto farla lo sapevo io io lo sapevo che era una trollata io lo sapevo che era una trollata io lo sapevo io lo sapevo un furgone let's go let's go con chi conosco nel senso con chi conosco in chat vabbè è stone di turno mi regala la sub no perché fifised tacci sua però è stone di mortacci tua ovunque ti trovi regali in a sub tacci tua vabbè vabbè top giornata oggi top giornata this is a content grazie per la sabina peppe se vuoi entrare su telegram può entrare punto esclamativo telegram dimmi dove è disponibile vabbè e vabbè non è per me fifi e vabbè ma avete fatto fa sta figura de merda e vabbè e vabbè cosa ci mancava ecco io me lo aspettavo già una cosa del genere ma io me lo aspettavo ma come non ha risposto ma se ha detto vabbè dai ma ha risposto ha risposto ha risposto ma non non posso stare mezz'ora a farvi vedere la sua live che non si potrebbe fare in teoria aspetta avevo sbagliato pure la categoria ecco mo siamo in just chatting prima eravamo ancora nella categoria di gioco cioè ma che figura di merda mi avete fatto fare che cacchio di figura di merda qualcuno voi vi siete messi d'accordo ecco per farmi fare questa figura de merda no poi sono curioso di di vedere come come è nato tutto questo come avete convinto oppure non lo so è venuta lei su spontanea volontà su questo mio canale non lo so però vedevo che stavo guardando da un bel po' la live perché così io randomicamente mi metto a guardare gli utenti presenti in chat e ho notato sto nome abbastanza familiare dice babà sarà un bug sarà un boh strano perché lei è live in questo istante come è possibile che mi sta guardando e poi è successo tutto quello che è successo questa sera però content di giocata si e no se ho fatto una mezz'oretta di game si e no se ho fatto una mezz'oretta si è ribaltata la situazione letteralmente ed è questo quello che amo ed è già la seconda volta che mi capita nel giro di due anni la prima volta successa con Omiatol mamma mia che successe quella volta è una mezz'oretta